L'ospedale di Atri ha una nuova unità operativa semplice dipartimentale. Per il consigliere regionale Luciano Monticelli si tratta dell'inizio del potenziamento dell'ospedale San Liberatore. Di potenziamento che segue quello dell'oculistica di alcuni mesi fa. Dottor Paone fa dei numeri eccezionali, tant'è vero che sta sperimentando anche tra poco operazioni della retina che prima non veniva fatto in Atri, sono arrivati due nuovi pediatri, uno ancora in attesa dello svincolo da parte di un'altra ASR del Nord e ci sono questi due nuovi interventi che saranno il primo di luglio e che stanno ridando potenziamento all'ospedale di Atri in barba chi diceva che ormai è rientrato un cronicario, assolutamente no. Nessun ridimensionamento dunque dell'ospedale atriano? Noi abbiamo subito, io soprattutto politicamente, il fatto della chiusura del punto nascita però da lì abbiamo invertito la tendenza. Devo dire che ci sono dei reparti che fanno numeri come l'endicronologia, come la stessa oculista che ho detto prima soprattutto sulla diagnostica. Atri sull'ultimo atto aziendale rimane unità ospedale di base con quattro unità operative complesse quindi minimo con quattro primari e poi tutta una serie, una quindicina tra WOSD e WOSD che sono servizi dipendenti dalla WOC di Teramo ma che comunque svolgono sul territorio, su Atri, attività normali.